Buongiorno a tutti, io mi chiamo Noemi Batchi, sono una tuffatrice triestina, da poco laureata in comunicazione e pubblicità presso l'Università di Trieste. Sono qui oggi, anche se solo virtualmente, per partecipare con voi a questa giornata che segna il passaggio dal mondo dello studio al mondo del lavoro. Io adesso mi alleno a Roma e per questo che non posso essere presente, ma per tanti anni ho vissuto a Trieste e mi sono allenata e ho studiato per quanto possibile ovviamente da casa presso l'Università. La mia storia sicuramente non è una classica storia dei giovani di oggi perché io ho avuto la fortuna con lo sport di entrare nel gruppo sportivo dell'esercito che mi ha permesso di trasformare la mia passione in lavoro e quindi mi ha permesso di vivere il mondo dello studio come un percorso secondario che però ho reputato molto importante continuare e terminare. Io credo che sia molto importante una volta che si è deciso di intraprendere un percorso, insomma una decisione di qualche tipo, portarla a termine, anche se questo dovesse implicare il perderci più tempo perché ovviamente io per fare una triennale ci ho messo qualche annetto di più. Nonostante questo, nonostante magari la difficoltà, l'affievolirsi delle intenzioni, il dire perché, chi me lo fa fare, ho sempre reputato importante comunque per correre fino in fondo e laurearmi nonostante io ormai abbia 30 anni e una carriera sportiva già avanzata. Io ho avuto la fortuna di poter partecipare già a tre Olimpiadi, la prima delle quali avevo 20 anni e ora mi trovo qui a Roma appunto perché sto cercando di agguantare ancora questa quarta Olimpiade e penso che per arrivare a fare questi risultati sì, sia una fortuna ma sia anche una somma di tenacia, capabilità e tanti valori che al giorno d'oggi magari vengono un po' dati per scontato e non è soltanto l'avere talento, l'essere interessati a qualcosa ma il perseverare anche nelle giornate no, anche negli anni no perché anche le annate no purtroppo succedono e crederci, crederci fino in fondo. Certe volte ci vuole più tempo, io comunque sono qua nonostante un atleta nei tuffi sia all'apice verso i 25 anni e verso i 30 veramente ormai siamo delle specie rare. Io sono ancora qua perché credo di potermi migliorare e credo che questo sia comunque una scelta molto importante di vivere ancora questa vita a questa età però penso che ognuno abbia dentro un qualcosa che deve seguire, una vocazione, una passione e quella passione è come una miniera di diamanti, va lavorata fino alla fine per tirarci fuori veramente tutto il possibile per poi poter vivere una vita e poter dire io ho fatto tutto quello che potevo. Il mio percorso di studi è stato più che altro un approfondimento, un scoprire territori nuovi perché ovviamente mio papà mi ha sempre detto che studiare è importante, che non bisogna mai smettere di imparare e secondo me questo è vero in generale nella vita perché comunque imparare sempre cose nuove e mantenere viva la nostra curiosità aiuta in tutto e per tutto. Quindi io non sarò qui a darvi consigli sullo studio perché voi siete sicuramente più bravi di me nello studiare, io quello che posso dirvi è che se avete una passione inseguitela, credeteci, cercate comunque delle vie parallele perché comunque esplorare l'enormità delle possibilità che la vita ci offre è molto importante e chi lo sa magari possiamo scoprire cose molto interessanti ma non mollate mai e seguite il vostro cuore e quello che desiderate fare perché altrimenti ogni lasciata è persa. Scusate per tutti gli errori grammaticali e logici del mio pensiero, spero che non mi ritirino la laurea dopo questo video, però quando si parla della propria passione allora il cervello fa fatica a stare dietro a quello che il cuore vuole esprimere e quindi niente io vi saluto, vi auguro in bocca al lupo per il proseguo della vostra vita e mi raccomando mai mollare, ciao!